Edilus EE è il nuovo modulo della soluzione Edilus dedicato agli edifici esistenti in cemento armato. All'apertura di un nuovo progetto, il programma ci chiede se stiamo progettando una nuova struttura oppure se ne stiamo verificando una esistente. In questo secondo caso sceglieremo se sarà eseguito un intervento di miglioramento o adeguamento e se stiamo analizzando lo stato di fatto o siamo nello stato di progetto. Ovviamente analizzeremo prima lo stato di fatto per poi pensare ad un progetto di intervento. L'interfaccia grafica di Edilus EE è la stessa di Edilus CA, con la tavola grafica nella parte centrale e tutti i comandi comodamente reperibile tramite i toolbox a scomparsa posti a destra e sinistra. L'input della struttura è lo stesso di Edilus CA, per cui apriamo un file già modellato per poter focalizzare l'attenzione sulle peculiarità del modulo EE. Ipotizziamo di dover analizzare lo stato di fatto di questo edificio. Qual è il primo problema che ci troviamo ad affrontare? Sicuramente quello della conoscenza della struttura, conoscenza che riguarda la geometria, ma soprattutto le resistenze dei materiali e il dettaglio delle armature. Vediamo come ci corre in aiuto il programma. Dopo aver ricostruito la geometria tramite un rilievo, ci portiamo nella vista livello di conoscenza, dove possiamo riportare il materiale che abbiamo a disposizione. Sulla struttura avremo eseguito delle prove che possiamo andare a localizzare. Come vediamo subito, il programma ci indica quello che è il nostro livello di conoscenza, LC3. Possiamo selezionare un gruppo di prove inserite e caratterizzarle, indicando ad esempio che sono dei carotaggi, e riporteremo i risultati delle prove. Se abbiamo eseguito anche dei prelievi di armatura, riporteremo il risultato delle prove. Su altri gruppi di prove potremo ad esempio dire che sono delle prove non distruttive, quali prove sclerometriche, ultrasoniche, conson-REB, e anche in questo caso riportare il risultato delle prove. Tutto questo ci è utile in quanto dopo averle inserite possiamo selezionarle, tutte o in parte, e tramite il wizard materiali il programma ci calcolerà le resistenze da usare nel calcolo. Lo può fare in base ai vari tipi di prove che indicheremo. A questo punto conosciamo la geometria della struttura, conosciamo le resistenze dei materiali, abbiamo il livello di conoscenza, ci mancano solo le armature, provvediamo quindi a ricostruirle. Lanciando il primo step di calcolo, il programma individua le travate e le pilastrate che ovviamente sono vuote. Potremmo disegnare i ferri di armatura nel modo più generale possibile, andando a definire lunghezza, numero e diametro. lo stesso vale anche per le staffe. Indicheremo a sinistra, a destra e in mezzeria il quantitativo di armatura e avremo il disegno in automatico. Abbiamo a disposizione varie funzioni che consentono di accelerare la ricostruzione delle armature. Ad esempio abbiamo la funzione copia e incolla. il programma in automatico incollerà le armature in un'altra travata simile. Avendo ricostruito anche le armature, abbiamo un identikit completo dell'edificio. Possiamo lanciare il calcolo per analizzare lo stato di fatto. A calcolo eseguito abbiamo varie modalità di controllo dei risultati. Ad esempio, tramite lo strumento Controllo delle verifiche, possiamo vedere gli elementi non verificati, per una o più verifiche. Per valutare sinteticamente la capacità globale dell'edificio, il programma ci restituisce la relazione di sintesi, all'interno della quale ritroviamo la valutazione della capacità della struttura, espressa sia in termini di accelerazione che in periodo di ritorno. Soprattutto ci viene fornito l'indicatore di rischio che rappresenta il rapporto tra capacità e domanda, nel nostro caso, come si vede, è 0.42. Analizzato lo stato di fatto, possiamo passare ad un progetto di intervento, per cui chiudiamo il file. Apriamo un nuovo documento, che questa volta sarà non di fatto ma di progetto, che potrà essere un miglioramento o un adeguamento. Noi scegliamo Miglioramento. Un progetto di miglioramento partirà da uno stato di fatto, per cui possiamo indicare al programma da quale stato di fatto vogliamo partire. E se si aprirà lo stesso edificio di prima, ma questa volta viene caratterizzato come progetto. Il che vuol dire che potremo inserire sia gli interventi sugli elementi esistenti, ma anche inserire degli elementi di nuova costruzione. Ad esempio, per il nostro progetto di intervento, pensiamo di irrigidire la struttura inserendo dei setti nella direzione corta del fabbricato. Inseriamo i setti, copiamoli ai vari piani e sul 3D vediamo l'intervento eseguito. Inseriamo anche degli interventi sugli elementi esistenti. A tal proposito ci porteremo nella specifica vista Interventi CA, dove troveremo le varie soluzioni possibili. Possiamo inserire incamiciatura in cemento armato di travi e pilastri, fasciature per flessioni o per taglio con fibre, cerchiatura dei pilastri, confinamento del nodo e altro. Inseriamo ad esempio delle fasciature a taglio sulle travi. Nel toolbox delle proprietà indicheremo le caratteristiche del rinforzo. Per esempio, se è un avvolgimento ad u o completo e altra informazione. Sui pilastri tozzi delle scale, dove si hanno problemi di taglio, inseriamo delle cerchiature in fibre di carbonio. Anche queste le andremo a caratterizzare nel toolbox delle proprietà. Ipotizzando che questo sia il nostro progetto di intervento, a questo punto dobbiamo lanciare il calcolo per verificare l'efficacia. Eseguito il calcolo, possiamo vedere che i nuovi elementi, nel nostro caso i setti, sono stati progettati, quindi il programma ne ha determinato le armature e ne ha rispettato tutti i dettagli costruttivi. Mentre gli elementi esistenti sono stati solo verificati, tenendo in conto degli interventi laddove sono stati inseriti. A calcolo eseguito, possiamo ricontrollare i risultati come fatto prima, ma più interessante sarà vedere come è migliorata la capacità della struttura. Andiamo a produrre il documento relazione di confronto. Specifichiamo il documento con il quale vogliamo effettuare il confronto. Scegliamo il file dello stato di fatto che abbiamo precedentemente analizzato. In essa ritroveremo una tabella dove vediamo il confronto tra lo stato di fatto e di progetto dell'indicatore di rischio. Nel nostro caso, come si può osservare, passa da 0.42 dello stato di fatto a 0.62 dello stato di progetto, quindi la capacità è aumentata quasi del 50%. Bene, con questo abbiamo portato a conclusione un intervento di miglioramento sismico su un edificio esistente. Abbiamo visto che Edilus EE ci ha guidato passo passo dall'analisi dello stato di fatto alla predisposizione della tipologia di intervento fino alla valutazione post-intervento. Con Edilus EE è semplice e rigorosa anche l'analisi degli edifici esistenti in cemento armato. Grazie a tutti.